Sì, qua è Svan04 che vi parla, oggi siamo in un video tipo un po' aggiornamento perché siamo arrivati a 100 iscritti. È da due mesi che faccio video, per me è tanto, tanto siamo al mare. Siamo in gita con la scuola che stavolta siamo con la mia classe, la prima A, l'altra volta eravamo con la seconda A. Siamo in riva, tanto vi fa vedere il mare, tutte le mani renose e laggiù c'è il faro. Facciamo un giro a 360 gradi. Porca zon, sei arrivata un'onda, fra un po' arriva lo tsunami. Addio, 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 addio. No, io te, si deve andare via. Mi piace di andare via, siamo arrivati ora al mare. Praticamente abbiamo fatto un percorso, un piccolo percorso. E comunque scrivetemi nei commenti che cosa fare nel speciale, bisogna andare via, merda. Iscrivetevi al nostro canale, iscrivetevi al nostro canale. Oh, dobbiamo fare i video, andiamo via, andiamo via, andiamo via. Ci sono degli spammoni in arrivo. Comunque, scrivetemi nei commenti che cosa fare nello speciale 100 iscritti e con chi farlo. E fatemi sapere con un like se volete un altro video di queste gite che stiamo facendo. Perché tanto ne manca solo una. Alla augur! Se c'è già fatto quasi cacare. Quasi. E ora c'è... Ora c'è il ritorno! Canzoni a casa. Bravo! Qui c'è una capannina dei desideri. Che figo! Sì, poi ti si stiaccia. C'è da andare via. Saluta, mamma. Ciao! Mi fate una foto anche a me? Chiami fammi una foto. Ora si dorme, siamo nella capanna e c'è più ombre. Mamma, godura! C'è godura, sto qua l'ombra. C'è sto qui, fa certi urli. Pare che c'è tipo che c'è... Inquadra anche Ismael. Ti voglio vedere. È l'Isma. Ciao Isma! Scrivete al canale, eh! Ok, 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 ok. Ciao, ciao, ciao! Non c'ho che fare. È su esse! Sì, è su esse tu madre. Sì, la tua. Ha sentito. Avevamo spiegato tutte le nostre scuole. Vieni qua, Gassi. Avevamo spiegato tutte le nostre gambe per venire qui per non far nulla per andare a scendere via e per tornare. E poi avevamo spiegato tutte le nostre gambe. Che fa chi è? Ciao a tutti ragazzi. Oh Samuele, ragazzi, non vi pubblicate un commento sulla chiacchierata privata. Sulla chiacchierata privata! Yeah! Diteli che è fatto in italiano. Non si capisce proprio no. No, non chiudilo, no? No, non chiudo, De. E te? Si, fuck you, nigga, fucking nigga. Negga, negga, negga. Negga, negga, negga. Che sei rapporto, Samuele? Sì, sì. Samuele è bocciato! Sì. Ragazzi, non l'ascoltate sulla chiacchierata privata? Sulla chiacchierata privata! Sulla chiacchierata, poi non è chiacchierata privata, sono i commenti. Vabbè ragazzi, diteli che sono fatti degli altri. Eh, non si capiscono, sì. Anche se sono fatti suoi. Eh, non si capiscono, sì. Collino! Maia, che dolore. Non si capisce, cazzo. Dai ragazzi, quello che vi dico, che Samuele diciamo che un po' ti rompe le palle, ma almeno bravo a giocare a calcio. Cosa positiva? Una ce l'ha. Una, una, una. Però ho aperto la crossbar. No, la buccia dal terrazzo challenge. No, la buccia sempre staglia. La buccia sempre staglia. Siamo sulle dune. Che palle. Si ritornano indietro. C'ho le scarpe piene di sabbia. Io me la volevo togliere. Fattiamo una sfida, Samuele. Se questo video raggiunge i 100 like, fare qualcosa. No. Ragazzi, iscrivetevi per il mio migliore amico. Dai su! Più o meno. Comunque, abbiamo fatto una sfida, io e Rocco, che se arriviamo a 15 like, mi infilo i calzini nel naso. Ragazzi, di Rocco che puzzino neanche i maiali, sono così. Quindi 15 like subito. Perché nel naso sono piccoli, i calzini sono grossi. Eh. Quelli fini, da tanza. Li hanno usati per 100 secondi. Che schifo ragazzi, povero Samuele. Dai, iscrivetevi. Anzi, ragazzi, 100 iscritti, fateli. E ce l'ho già 100 iscritti, scemo! Vabbè, altri 100, no? Scemo. Spento. E ci arrivo dopo altri 40 mesi. E bacana. Non è tanto delizio. Oh, le baroline! Ragazzi, non ascoltate. Ha il cappellino e neanche i baroni. E c'è un casco di manano in testa. Eh sì. Aia. Giozzo come il fono. Ragazzi, è finocchio, non l'ho dita a nessuno. Dov'è andata? Raggiunge i 100.000 like. I 100 like si butterà dal terrazzo. Aiuto. Rocco, è vero che puzzano i tuoi piedi? Un casino. Se allora 15 like, 100 secondi, l'annuso per 100 secondi. No, quant'è il sito è? 104 secondi. Eh, 4 secondi. 105 secondi. Sì. E poi dopo salgo, salgo e quando arrivo a fare un altro video, insomma c'è, a 200. Ha stati tanti like. Eh sì. Dai, massimo 10, per favore. 15, ho detto 15, 15. Ho detto 15 like, mi annuso per 100 secondi i calcini di là. Vai, 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 vai. Arrivate anche a 20 like se c'è una. Ok, spolliciate, iscrivetevi e commentate, giù nei commenti e ciao.